Salve e un cordiale benvenuto al camping TCS di Schuol, nel cuore della bassa Engadina. Questo campeggio è a vostra disposizione tutto l'anno. Sul prato per le tende, tra larici e campi, potrete godere una vista da sogno sul cielo blu terzo dell'Engadina. Tra i tranquilli posti stagionali e turistici troverete quello adatto per rilassarvi. Chi preferisce riposarsi senza attrezzatura da campeggio propria, può affittare sul posto uno degli accoglienti pod o family pod. I servizi igienici sono moderni e arredati in modo confortevole. Nella stagione più fredda verrete accolti da un piacevole calduccio. In estate, un accogliente ristorante invita a godersi i piatti gustosi. Sulla terrazza o direttamente sul prato, ci si può immergere nella vera atmosfera di vacanza. In inverno, invece, il piacevole arredamento in legno del ristorante invita gli ospiti a intrattenersi a lungo. In caso di maltempo, è possibile distrarsi nel locale ricreativo, nelle giornate soleggiate invece sulla terrazza. Gli ospiti più piccoli possono divertirsi sul castello gonfiabile, sul trampolino o con tutte le altre offerte del programma di intrattenimento. Squall offre numerose attività sportive, ad esempio i due campi da tennis, proprio accanto al campeggio. Innumerevoli sono le escursioni a piedi o in bici attraverso la bassa ingadina. Squall è la meta turistica ideale per rilassarsi. Nell'officina professionale per le biciclette, di cui è dotato il campeggio, è possibile riparare la propria bici e poi lavarla con l'apposito impianto. Anche il river rafting sull'Inn fa parte delle attività per il tempo libero più apprezzate della bassa ingadina. Con i suoi complessivi 80 chilometri di sentieri per escursioni, il Parco Nazionale Svizzero offre tanto svago a diretto contatto con la natura. Le terme di Bogni e Ngiadina impressionano per la grande area sauna e la vasta offerta wellness. Anche le case decorate a sgraffito, famose in tutto il mondo, valgono una visita. Il camping TCS di Squall e l'intera regione offrono un soggiorno vario per tutte le esigenze e che può essere goduto durante tutto il corso dell'anno. Benvenuti nella bassa ingadina e nella stupenda Squall per le vostre indimenticabili vacanze in un camping TCS.